Nella giornata di ieri una squadra di operatori del Nogra Salerno ha individuato un sito dove si sversano rifiuti nei pressi della fascia costiera di Ponte Cagnano-Faiano. In tale discarica vi erano anche rifiuti speciali e pericolosi. A seguito di ispezione sono stati rinvenuti indizi che hanno portato ai trasgressori. Gli atti verranno ora trasmessi alle autorità competenti per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative.